I nuovi casi di positività immersi nei giorni scorsi che incrociano i più istituti hanno visto l'ASL di Salerno avere difficoltà nello stilare le relative catene di contatto. Ad oggi il personale non è riuscito, per le motivazioni più diverse, a contattare tutte le persone a fine di predisporre le necessarie verifiche del caso. Per questo motivo il sindaco della città di Agropoli, Adamo Coppola, ha disposto alla chiusura di tutte le scuole del territorio comunale, ad eccezione di quella dell'infanzia. Il ritardo era quasi obbligatorio, nel senso che talmente tanti erano gli incastri ai casi che si erano terminati, a ridosso del weekend, in una condizione in cui alcuni tamboni sono stati fatti in ritardo, altri se ne attendeva il risultato da laboratori privati, ecco quindi l'incrocio tra i dati che derivavano dai laboratori privati, i dati dai laboratori pubblici, l'incrocio di alcune persone, non mica è stato facile ad esempio riuscire a rintracciare tutti i professori perché magari alla scuola media piuttosto che al liceo, non tutti i professori naturalmente sono di Agropoli, quindi magari qualcuno era fuori nel weekend e non è stato facile rintracciare, non è stato facile parlarci, non è stato facile metterli in quarantena oppure chiedere il tampone, quindi tutte queste attività, tra l'altro incrociate tra di loro avevano necessità di un certo tempo per essere svolte, quindi non è un ritardo, è che un lavoro complicato ha necessità di più tempo per essere fatto e allora onde evitare rischi, problemi, ho pensato che dovessimo comunque aprire le scuole ma in totale, come ho sempre detto, sicurezza. Dato che non c'era la certezza di alcune situazioni su diversi istituti, mi sono sentito in dovere di fermare un attimo la situazione, chiudere per un giorno, tanto questo veramente non ci cambia niente e una volta che l'ASA l'ha completato in maniera chiara il suo lavoro ci potrà dire qui siamo a posto che la scuola è in sicurezza, qui non è possibile, qui dobbiamo intervenire, quindi a quel punto con il quadro chiaro della situazione andremo a riaprire le scuole nella totale sicurezza, se sarà possibile riaprire, altrimenti ci adegueremo e eventualmente faremo altre decisioni, però mi è sembrato in questi casi evitare di correre, questo è sostanzialmente il fatto, si poteva anche aprire in velocità e se avessimo fatto poi una valutazione sbagliata, se un tampone che ci aspettavamo magari negativo arrivava positivo, queste cose non possiamo permetterci di rischiarle e solo per questo motivo ho deciso di mantenere chiuse le scuole. Oggi avremo una situazione chiara e oggi decideremo cosa si farà per domani, quasi certamente saranno tutte riaperte. Il sindaco Coppola ci tiene anche a precisare riguardo ad alcune chiacchiere che sono circolate in queste ultime ore in città che farebbero riferimento a persone che avrebbero organizzato una cena in barba all'enorme anticontagio da Covid-19. Gli ingiugi di paese ci sono sempre e credo ci saranno sempre, però penso che qui si tratta di una certa serietà, di una certa rilevanza, quindi mi auguro, non so se sono testate giornalistiche o ci sono giornalisti o portali che hanno dato notizie false, però come abbiamo sempre detto, invitiamo oggi chi fa il vostro lavoro, almeno per quel che riguarda questo tema, a essere al massimo collaborativi, perché come ho sempre detto è un gioco di squadra, noi facciamo gli amministratori, ma abbiamo bisogno della comunicazione vostra, puntuale, precisa, seria, per fare un lavoro di raccordo con i cittadini, quindi le false notizie che magari certamente possono creare clamore, ma non danno certezza alla nostra città, i nostri cittadini sono assolutamente da evitare, quindi veramente evitiamo chiacchiere di questo tipo, evitiamo chiacchiere da bar, se ci fosse stato qualche problema serio sarebbero intervinte le forze dell'ordine, non ce ne sono state, non mi risulto ce ne sono state, quindi chiudiamo anche questa chiacchiera, questa vicenda negativa immediatamente, evitare ripercussioni di carattere negativo che non devono succedere. Continuiamo a lavorare in questo modo come stiamo facendo, perché se la città di Agropoli oggi ha un numero di casi più basso, in media rispetto agli altri comuni e forse perché tutti insieme abbiamo fatto un buon lavoro, noi i cittadini e la stampa, quindi continuiamo in questa direzione, non cambiamo strada perché credo sia la direzione giusta questa.